Siamo io, sarò qui, mi spingi un pochettino e ti dici il ginocchio, bravi grandi, così, bene, io passo qui, bene, e da qua cosa potrei fare? Ani, poi andare a cimura, subito, poi mi adeta, subito, 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 subito. capito? si perchè il braccio è qui, qui devi spingere con questo braccio e poi avvicinare un pochino subito stai attaccando ancora e poi anche il suffocamento subito spingi con il ginocchio sinistro alci il ginocchio sinistro alci bene alci sopra la mia schiena copri bene però deve essere più capito? questo è il ginocchio che questo ginocchio è molto mobile no no questo deve essere più che mi schiacci di qua con questo copri si non permette che copri bene si deve tirare bene questo braccio qui e poi il suffocato capito? oh che mura scelta ginocchio questo è buono questo devi fare un pochino troppo allineato troppo muscoli dici sì questo proprio sento che questo ogni volta faccio stretti questo bene dai facciamo fai cambero si questo è questo questo il è questo qui 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 si qui qui è qui Sì. Ho capito? Sì, questo. Queste cose sono semplici. Poi sono lottatori che si sentono parte. Poi può essere che tu perdi un pochettino il fiato. Per non perdere il fiato sempre deve essere il movimento, quello che ti dico, devi girarti, 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 girarti. Ok, alzati. Adesso diciamo che ci sono persone che quando ti attaccano. Si attaccano la tua gamba, vedi? Tu devi attaccare la mia gamba. Sì, vedi? Da queste posizioni si possono buttare giù abbastanza veloce. Sì, con questo. Sì, cosa faccio io? Mia braccia destra, vedi, vicino al corpo. Sinistro, metto qui, ritirisco, vedi? E provo a liberarmi. Aspetta, ogni tanto, vedi? Hop, e provo a liberarmi. Però questo braccio non lascio, vedi? Posso andare qui e controllo. Uff, ti sentito come, vedi? Prova, io ti controlo. Uff, parami, io sto così. Sì. Adesso, adesso, mi raci qui, se ti meti così, braccia destra, scopo la mia faccia. No, 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 ingresso, solo faccio. Soprta, sì, un'istit. Vedi? Costa, non mi permette, fordiamo, corto. Io ti spingo, tu e occhi. Uff, mi cazzo, mi pijano è questa. Beggio di tutte, perché prende un'ostra, tutto. Lui sta qui, si prende, vedi? Lo lascio. No, 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 puoi lasciare anche qui. E va. Hop, piano. No. Vedi? Hai perso il punto. Sì. Devi rimanere. Hop, lui va. Hop. Sì, piano. Basta che tocchi faccia. Sì, però. Eccolo. Eri dritto. Così. Capito? Sì. Ogni tanto questa cosa funziona meglio quando attaccano questo braccio. Sì, però, ha dei fleschi diversi, belli puliti, con tranquillità. Sì, sì, senza paura di cadere. Ogni tanto ci prendono, ci prendono di questo braccio, gamba. Tu puoi andare fuori, vai. Ti prendono, aspetta, aspetta, aspetta. Hop, ti prendo. Aspetta, però, no, 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 no.